Amici sportivi di Voci Metelliani Aquilotto, buon pomeriggio da Jenny Vitale. Siete collegati con lo stadio Simonetta Lamberti, dove fra qualche minuto avrà inizio l'incontro di calcio tra Cavese e Casarano, valido quale semifinale dei play-off del campionato di Serie D, Girone H. Una partita fra due formazioni che arrivano a questa gara con l'umore decisamente diverso. Il Casarano è reduce dal buon pareggio conquistato in quel di Bitonto all'ultima giornata. Domenica ha osservato la sosta ovviamente nel momento in cui la Cavese invece stava disputando il suo spareggio promozione contro il Brindisi, che purtroppo si è concluso in malo modo per la formazione di Troise, che quindi quest'oggi si ritrova a dover disputare i play-off. Play-off che vengono disputati appunto tra Cavese e Casarano, ovvero la seconda e la quinta di questo raggruppamento. La vincente poi andrà ad affrontare la squadra che riuscirà a passare tra la terza e la quarta, vale a dire tra Nardò e Barletta. In virtù della migliore posizione in classifica alla Cavese potrebbe bastare anche un pareggio oltre alla vittoria. Nel caso in cui le squadre al novantesimo dovessero essere ancora sul risultato di parità, si procederà con la disputa dei tempi supplementari. Dopodiché la Cavese, che è meglio posizionata in classifica nel caso in cui dovesse persistere il risultato di parità, passerebbe il turno. Andiamo a leggere le informazioni. La Cavese in campo con Colombo, Rossi, Altobello, Fissore, Maffei e Mugnoz, Bezzon, Cuomo, Gagliardi, Banegas e Foggia. In panchina con mister Troise siedono Di Somma, Aliperta, Palma, Tuminelli, Bubas, Basile, Puglisi, Bacio Teracino ed Amore. Risponde il Casarano con il seguente undici. Caro Tenuto, Vito Francesco e Bocchetti, Marsili, Saraniti e Strambelli, Cecere, Citro, Guastamacchia, Tipaldi e Cipolletta. In panchina con mister Foglia Manzillo siedono Bagietti, Rizzo, Bursio, Gaeta, Cannavaro, Boesma, Mercurio, Navas e Dellino. Dirige incontro il signor Gavini della sezione di Aprilia. Gli assistenti sono Benici di Agrigento e Cimarussi di Novara. Intanto c'è un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime dell'Emilia Romagna. Grazie. 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 Alla Cavese sono state combinate due giornate di squalifica per il lancio da parte dei propri sostenitori di fumogeni nel corso del secondo tempo della gara spareggio tra Cavese e Brindisi, quindi due giornate a porte chiuse combinate alla Cavese. Squadre che sono pronte per l'inizio della partita, c'è anche una leggera pioggia che sta accadendo qui su Cava dei Tireni, Cavese in tenuta interamente bianca, maglia a bande rosso-blu, pantaloncini blu e calzettoni blu invece per il Casarano. E sarà proprio la formazione di Foglia-Manzillo a dare il calcio d'inizio partiti in questo momento. Possesso di palla per il Casarano con Tipaldi, all'indietro per Guastamacchia a beneficio del portiere carotenuto. Andiamo a dare anche uno sguardo agli schieramenti tattici con il Casarano che scende in campo con un 4-2-3-1 carotenuto tra i pali. In difesa da destra verso sinistra Vito Francesco, Guastamacchia, Cipolletta e Tipaldi. I due interni di centrocampo sono Marsili e Cecere con Citro, Strambelli e Bocchetti ad agire dietro la punta che sarà Niti. 4-3-3 invece per la Cavese che schiera Colombo in porta, Rossi, Altobello, Fissore e Maffei sulla linea dei difensori. A centrocampo Cuomo, Bezzon e Mugnoz, Foggia, Gagliardi e Banegas in attacco. Ed è il Casarano adesso che mantiene il possesso di palla con Strambelli, il passaggio all'indietro per Cipolletta, Guastamacchia. Casarano che attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione qui in tribuna stampa, viceversa ovviamente la Cavese. Ancora la formazione di Foglia Manzillo che mantiene il possesso, pallone per carotenuto. Gioca a beneficio di Cipolletta. Lancio in verticale sulla sinistra per Bocchetti, c'è Rossi che controlla che la sfera termini direttamente in fallo laterale. Quindi la rimessa sarà a favore della Cavese con lo stesso Rossi che si prepara a effettuare la ripresa del gioco. Rossi per Foggia che viene anticipato, poi è ancora Foggia che riconquista il pallone fra due avversari, va giù e guadagna un calcio di punizione. Mister Troise che ha cambiato qualcosa rispetto alla formazione di sette giorni fa che ha affrontato il Brindisi. C'è Rossi dal primo minuto sull'out di destra in luogo di Basile. Accanto ad Altobello invece c'è Fissore, mentre in mezzo al campo Bezzon è preferito ad Aliperta. Il tridente d'attacco invece è formato da, come dicevamo, da Foggia, Banigas e Gagliardi. E' proprio capitano Altobello che tocca sulla destra per Rossi. Pallone per Bezzon che sbaglia il disimpegno, ne approfitta Bocchetti, avanza il numero 3 del Casarano, provano a conclusione dalla distanza che viene rimpallata dallo stesso Bezzon in falo laterale. Si prepara ad effettuare la ripresa del gioco Tipaldi. Pallone per Marsili. All'indietro per Guastamacchia. Vito Francesco. Centralmente per Strambelli. Marsili. Cipolletta. Citro per Marsili. Ancora Citro. Scambia con Saraniti. Pallone che arriva in area. Bocchetti. La conclusione è palla che si spegne sull'esterno della rete. Prima azione pericolosa della partita. La costruisce il Casarano al terzo minuto di gioco con la conclusione che viene effettuata da Tipaldi. La palla colpisce, termina sull'esterno della rete. Quindi gioco che riprende con la rimessa da fondo campo a favore della Cavese. con Colombo. Accanto a lui ci sono Altobello e Fissore. Preferisce il tocco per il capitano della Cavese. Ancora Colombo. C'è il pressing da parte dei calciatori del Casarano. Lancio lungo sulla destra per Banegas. Poi è Mugnoz che mette la palla direttamente in falo laterale. Cipolletta per Guastamacchia. Ancora Cipolletta. Tipaldi. Altobello anticipa Saraniti. Paloni in avanti per Banegas. C'è Cipolletta in anticipo. La rovesciata verso Tipaldi che colpisce di testa. Poi è Bezzon che anticipa Citro. Pallone sulla destra per Banegas che prova a servire subito Foggia. Viene però fermato in falo laterale. Cinque minuti nel corso del primo tempo. 0-0 tra Cavese e Casarano. Rossi per Banegas che smorza di petto a beneficio di Mugnoz che viene fermato ancora una volta con la palla che viene messa oltre la nia bianca. Ancora Rossi con le mani. Mugnoz. Rossi. Lo scambio con Banegas va Rossi. Lato corto di destra. Il cross basso ci mette una pezza Cipolletta e mette la palla in calcio d'angolo. Per il primo tiro dalla bandierina a favore della formazione metelliana. è andato via Rossi sulla destra e ha guadagnato un calcio d'angolo il primo della partita. Si preparano Bezzone e Gagliardi. Cross da parte di Bezzone. Il colpo di testa di Banegas che viene rimpallato da Tipaldi. Poi viene atterrato in area di rigore del Casarano Saraniti. che era rientrato per dar manforte ai compagni del pacchetto arretrato. È stato messo a terra da Banegas. Il calcio di punizione accordato dal signor Gavini di Aprilia al Casarano. con Carotenuto che si prepara ad effettuare la ripresa del gioco. Si avvicina Cipolletta che però viene invitato a salire. Opera il lungo lancio con i piedi Carotenuto. Nella zona di Saraniti c'è l'anticipo di Altobello. Pallone all'indietro per Rossi. Colombo con i piedi lungo nella zona di Foggia. La palla è troppo lunga. C'è il colpo di testa di Guastamacchia per Tipaldi che sbaglia però il distruttore. Ne approfitta Banegas che va via sulla destra a Marsili. Si accentra il 10 della Cavese. Pallone per Cuomo. Gagliardi al limite dell'area. Andato in sovrapposizione Maffei. Non è stato visto però da Gagliardi. Mette fuori la retroguardia del Casarano. Ancora la Cavese che conquista nuovamente il possesso con Cuomo. Tocco all'indietro per Fissore. Poi è Maffei. Buono il passaggio per Cuomo. Ancora entra in area di rigore Cuomo. Il tocco per Foggia e il velo. Non ci sono però maglie bianche. Può ripartire il Casarano con Citro. C'è l'ottimo anticipo di Fissore. Ad anticipare proprio Strambelli che era libero sulla destra. Il tegel da parte di Fissore. Molto attento. E' evitato la ripartenza del Casarano. Esattamente al settimo minuto. Sempre 0-0. Il risultato tra Cavese e Casarano. Tipaldi con le mani. Fissore anticipa Saraniti. Anzi si trattava di Bezzon. Poi è Marsili che cambia gioco sulla destra. Per Strambelli viene messo giù da Maffei. E c'è il calcio di punizione a favore del Casarano. Aumenta di intensità la pioggia qui al Simonetta Lamberti. Il terreno di gioco al momento tiene abbastanza bene. Pallone per Caro Tenuto. Il rinvio nella zona dove opera Maffei che anticipa Citro. Pallone all'indietro per Fissore. Alto Bello. Per Colombo. Pallone lungo dove c'è Vito Francesco a controllare Gagliardi. La palla termina direttamente in fallo laterale. Con le mani lo stesso Vito Francesco per Guastamacchia. Cipolletta. Va in pressing Mugnoz. Costringe il centrale del Casarano al lancio lungo. C'è l'anticipo di Maffei su Strambelli. Pallone per Bezzon centralmente. Il lancio sulla destra per Banegas. Sottimo lo stoppa da parte del 10 della Cavese. Ingaggia il duello con Tipaldi. Lo supera in bello stile. Entra in area Banegas. La conclusione è palla fuori. Ha effettuato una conclusione con l'esterno del piede sinistro. Banegas non è riuscito a dare il giro giusto. E la palla è terminata di un paio di metri alla destra della porta difesa da Caro Tenuto. Tutto questo al nono minuto del primo tempo. Sempre 0-0 tra Cavese e Casarano. Lo spunto da parte del Pocio Banegas in area di rigore. Che però non è riuscito ad inquadrare la porta. Riconquista il pallone la Cavese con Alto Bello che va in anticipo su Saraniti. Rossi. Ancora Banegas. Mugnoz. Banegas. Ancora Bezzon. Gioca bene la Cavese. Molto corta in questa fase. Viene servito al limite. Gagliardi prova la conclusione. Palla di poco fuori. Aveva lo spazio per la conclusione. Gagliardi non ci ha pensato su. Ha provato a sorprendere sul secondo palo Caro Tenuto che però ha battezzato fuori la palla. Che è terminata quindi direttamente a fondo campo. Intanto il gioco è fermo. In quanto l'assistente che opera sotto il settore tribuna ha riallacciato uno dei due scarpini. Riparte il Casarano con Caro Tenuto. Cipolletta. In verticale per Saraniti. C'è una gomitata ai suoi danni di Alto Bello da parte di Saraniti. Il primo cartellino giallo per l'attaccante del Casarano. Che ha alzato i gomiti. Intanto ci sono subito le scuse. Aidan all'indirizzo di Alto Bello che si è rialzato prontamente. Quindi al decimo minuto del primo tempo. Primo calciatore a terminare sul taccuino dell'arbitro. Saraniti che quindi viene ammonito. Al decimo minuto di gioco. Alto Bello. Il pressing su di lui di Citro. Con una finta lo supera. Poi è Bezzon. Cambia gioco sulla sinistra per Gagliardi. Buono lo stop da parte dell'attaccante della formazione metelliana. Pallone per Mugnozza anticipato di testa da Marsili. Poi è Bezzon che tocca per Mugnozza. Banegas sulla destra. Pallone centralmente per Bezzon. Prova la conclusione Bezzon dalla distanza. E palla che termina direttamente a fondo campo. Aveva spazio per provare la conclusione. Bezzon ci ha provato con un tiro di collo sinistro. La palla è terminata però direttamente a fondo campo. Adesso è il Casarano che prova a manovrare con Strambelli. Fermato Banegas subito in area per Foggia. Il pallone troppo lungo. Aveva provato l'anticipo Cipolletta. Non era riuscito nel suo intento. La palla però era leggermente lunga. E Ciro Foggia non è riuscito ad arrivare sulla sfera. Può ripartire il Casarano. Cipolletta. Per Saraniti. Anticipato di testa da Bezzon. Poi è Fissore. Prova a servire Gagliardi. Bezzon. Ancora Gagliardi. C'è libero sulla sinistra. Cuomo preferisce la conclusione Gagliardi. Che manda direttamente alto sulla traversa. Era andato in incursione sulla sinistra Cuomo. Non se ne ha veduto Gagliardi. C'era uno spiraio libero per il centrocampista della Cavese. Ha preferito però la conclusione direttamente verso la porta da parte di Gagliardi. Con la sfera che è terminata a fondo campo. Cipolletta per Tipaldi. Bocchetti. Va a terra Bocchetti. C'è stato il fallo da parte di Banegas. Che era andato in raddoppio. Insieme a Rossi. Punizione per gli ospiti. Da Cipolletta a Marsili. Ancora Cipolletta. Caro tenuto. Cipolletta. Va in pressing Mugnoz. Ballone per Caro tenuto. In difficoltà sul pressing di Mugnoz. Si libera della sfera. Il colpo di testa di Bezzonna all'indietro per Altobello. Che con i piedi cede a Colombo. Ancora Altobello. Che avesse che si sta facendo preferire in questi primi 14 minuti della gara. Provando a tenere in mano le redini del gioco. La formazione di Troise. Che in un paio di circostanze è andata vicina al gol del vantaggio. Bezzon. Banegas. Tra due avversari prova ad andare via Banegas. La palla viene messa in fallo laterale da Bocchetti. Rimessa per la formazione Aquilotta. Rossi per Mugnoz. Fissora. Gagliardi. Cambia gioco per Banegas. Lo stop da parte del numero 10 della Cavese. Va in sovrapposizione Rossi. Che viene servito. C'è ancora Banegas. Può effettuare il cross. Che viene rimpallato da Tipaldi. Ancora Banegas. Mugnoz. Banegas. Lo scambio fra i due calciatori. Poi è servito Foggio. Ancora Banegas. Gagliardi. Pallone per Rossi. E' in posizione regolare. Mugnoz. Sbaglia il passaggio filtrante. Troppo forte. Buona l'idea da parte di Mugnoz. Che non ha dosato però la forza del passaggio per il compagno. E la palla è terminata direttamente a fondo campo. Sta provando la Cavese con scambi corti ad aggirare il pacchetto arretrato del Casarano. Che però in questa circostanza era ben disposto. Ha costretto Mugnoz all'errore in fase di costruzione. Intanto c'è un fallo da parte di Cecere ai danni di Bezzon. E calcio di punizione per la formazione Aquilotta. E' andato via il primo quarto d'ora del primo tempo. Sempre 0-0 tra Cavese e Casarano. Bezzon per Rossi. Cross buono da parte di Rossi. L'uscita in presa bassa di Caro Tenuto. Non è riuscito ad impattare con la sfera Cirofoggia. Che era leggermente in ritardo la parata di Caro Tenuto. Marsili. Vito Francesco. Arriva Maffei e serve Foggia. Guastamacchia lo anticipa di testa. Bezzon. Gagliardi si accentra il 7 della Cavese. Il tocco per Mugnoz. La conclusione di Mugnoz. Palla fuori. Ha provato a piazzare nell'angolo basso alla destra di Caro Tenuto. La conclusione di piatto debole però da parte del 25 della Cavese. Con la sfera che è terminata a fondo campo al sedicesimo del primo tempo. Guastamacchia in verticale per Strambelli anticipato. Gagliardi viene spinto alle spalle. Applica la norma del vantaggio il direttore di gara Maffei. Pallone per Foggia anticipato da Cipolletta. Poi è Mugnoz che ha la meglio su Cicere. Arriva però Bocchetti e tocca all'indietro per Caro Tenuto. Con i piedi per ancora Bocchetti che è in anticipo su Banegas. Tocca all'indietro per Cipolletta. Pallone in avanti per Saraniti. C'è l'anticipo di testa di Fissore. Mugnoz. Bezzon all'indietro per Altobello. Esce fuori dalla propria area di rigore Colombo e tocca con i piedi per il capitano della formazione bianco-blu che scambia ancora con Colombo. Ma in pressing Saraniti. Pallone di Colombo sulla sinistra. Impreciso verso Maffei. E palla in fallo laterale. Vito Francesco. Da Guastamacchia a Cipolletta. Pallone per Cecere. Ancora Cipolletta. Pallone sulla destra per Vito Francesco. Impreciso Cipolletta. E manda la palla direttamente in fallo laterale. Maffei con le mani. Gagliardi. Altobello. Rossi. Ancora Altobello. Gagliardi nel cerchio centrale. Pallone all'indietro per Fissore. Cambia gioco servendo sulla destra Banegas che è tradito dal rimbalzo della sfera. Riesce però a servire Rossi. Se ne va Rossi. Lato corto il cross da parte di Rossi. Palla che attraversa tutta l'area. E termina in fallo laterale dalla parte opposta. Riesce a sganciarsi spesso Rossi. Così come in questa circostanza. È andato via al diretto avversario. Il suo cross però non è riuscito a raggiungere alcun compagno di squadra. ed è terminato poi direttamente in fallo laterale. Riparte il Casarano con Marsili. Strambelli. Cambia gioco per Bocchetti sulla sinistra. Cecere. Tipaldi. All'indietro per Cipolletta. Mette la palla in fallo laterale ma c'è stato un tocco da parte di Foggia. Rimessa quindi per la formazione rosso-blu. Viene servito Cecere fermato in fallo laterale ancora una volta da Banegas. Tipaldi. Cipolletta. Marsili ancora Cipolletta. C'è il pressing di Mugnoz. Il pallone in verticale da parte di Marsili. C'è Altobello che è riuscito ad anticipare Saraniti. Probabilmente c'era un fallo. Lascia correre il direttore di gara. Da Saraniti a Tipaldi. Altobello è a terra. Tra il cross il colpo di testa da parte di Bocchetti e Pallafuori. C'era stata una carica seppur probabilmente involontaria da parte di Saraniti ai danni di Altobello che rimane a terra contuso. Duelli abbastanza animati tra i due calciatori. Già in precedenza Saraniti aveva alzato il gomito anche se in maniera involontaria ed aveva ricevuto il cartellino giallo dal signor Gavini di Aprilia. Anche in questa circostanza c'è stato un contrasto più duro del solito tra i due calciatori. Mentre Saraniti va a sincerarsi delle condizioni del capitano della Cavese a chiedere scusa. Un gesto di fair play da parte del numero 9 del Casarano. Mentre Altobello adesso viene portato fuori dal campo per destinazione. Vediamo se il calciatore Aquilotto riuscirà a rimanere in campo. In panchina la formazione metelliana non ha né magri né l'omasto per problemi fisici. Quindi non sono stati convocati per questa partita. Quindi in caso di defezione probabilmente dovrebbe esserci l'eventuale arretramento di Mugnoz al fianco di Fissore. Ma Altobello comunque è pronto a riprendere. Ed è entrato in questo momento quindi ristabilita la parità numerica. Adesso è Rossi che tocca proprio per Altobello. Il pallone per Banegas anticipato da Tipaldi. Mugnoz per un attimo arriva sul pallone ma la sfera termina in fallo laterale. 22esimo del primo tempo 0-0 tra Cavese e Casarano. Ha fatto di più la formazione di Troise. Anche se nessuno dei due portieri è stato impegnato fino a questo momento. Le conclusioni della Cavese in un paio di circostanze non hanno inquadrato lo specchio della porta. Cipolletta anticipa Cuomo. Colpo di testa di Altobello. Ancora Cipolletta su Cuomo. Saraniti e Fissore. Alla meglio il difensore della Cavese ma con una carica secondo il signor Gavini di Aprilia. Calcio di munizione per il Casarano con Marsili. Si incarica della battuta. Il suo lancio verso Strambeli termina direttamente in fallo laterale. Impreciso il numero 4 del Casarano. Maffei con le mani. Lascia scorrere Foggia. Lo anticipa però Bocchetti. Cipolletta per Guastamacchia. Il pallone corto per il giocatore ma Banegas ha commesso fallo nel tentativo di anticipare il centrale del Casarano. E' rimasto anche a terra Cipolletta. Pallone corto verso il numero 55 del Casarano che poteva costare caro alla formazione di Foglia Manzillo. E' stato bravo Cipolletta nella protezione della sfera e ha guadagnato un fallo sul pressing di Banegas che nel caso in cui si fosse impossessato della sfera aveva campo libero per involarsi verso la porta di caro tenuto. Non si tratta di nulla di grave per il calciatore del Casarano che sembra pronto a riprendere regolarmente il suo posto. infatti si rialza e c'è Guastamacchia che è pronto a effettuare la ripresa del gioco. Il fischio dell'arbitro Guastamacchia per Vito Francesco. Citro Pallone per Strambelli. Cambia gioco provando a innescare Bocchetti. C'è l'anticipo da parte di Colombo che in due tempi riesce poi a servire Rossi. Bezzon Buono il pallone nel corridoio per Mugnoz. Viene servito Banegas sulla destra in sovrapposizione ancora Rossi. Banegas si accentra. Pallone per Mugnoz. C'è Gagliardi che scambia con lo stesso Banegas anticipato da Guastamacchia. E Strambelli che adesso esce palla al piede. Tocca sulla sinistra per Tipaldi. Va in pressing Mugnoz. Pallone in avanti. Bezzon riconquista il pallone. Viene messo a terra da Cecere. Calcio di punizione per la Cavese. Sta giocando bene Aldo Bezzon che quest'oggi è stato preferito ad Aliperta. Maffei. Altobello. Rossi. Altobello. Fissora. Maffei. Servito Banegas sulla tre quarti. Allarga per Rossi. Pallone per Mugnoz. Si prepara al cross. L'effetto in questo momento. Foggia non riesce a deviare. Arriva Cuomo. E poi è Tipaldi che mette in calcio d'angolo per il secondo tiro dalla bandierina a favore della Cavese. Chiedeva una deviazione da parte di un calciatore metelliano Tipaldi che però non c'è stata. E quindi la Cavese beneficia del suo secondo tiro dalla bandierina. Il solito schema con Bezzon e Gagliardi. Il primo tiro d'angolo l'ha battuto Bezzon. Vediamo questa volta se sarà lo stesso centrocampista. Anzi si incarica stavolta Gagliardi. Il pallone al centro. C'è il colpo di testa di Saraniti a mettere fuori Maffei. La conclusione è rimpallata da Marsili. E può ripartire il Casarano con Citro. Pallone per Marsili. Prova a mettere in movimento Vito Francesco sulla destra. Sbaglia il passaggio. Il numero 4 del Casarano. Che mette la palla in fallo laterale. 27esimo del primo tempo. Sempre 0-0 il risultato tra Cavese e Casarano. Maffei con le mani a beneficio di Foggia. Anticipato in fallo laterale da Guassamacchia. Va Maffei. Pallone per Mugnozzi. Il colpo di testa con Lanuca. Nel tentativo di mettere in movimento un compagno di squadra. C'è il pallone che da carotenuto viene giocato sulla destra per Strambelli. Molto arretrato. Il pallone sembrava corto per Cipolletta. Foggia solo per pochi centimetri. Non è riuscito ad impossessarsene. Poi è stata messa in fallo laterale la sfera dalla retroguardia del Casarano. In apprezzione su questo disimpegno erato da parte di Strambelli. Mugnozzi. Banegas. Ancora Mugnozzi. Pallone in area di rigore. Non filtra per Rossi. Arriva Bezzon che anticipa Saraniti. Non c'è fallo. Altobello ancora per Bezzon. Avanza il numero 18 della Cavese. Pallone sulla destra per Rossi. Si ferma il numero 2 della Cavese che poi sportivamente mette la palla in fallo laterale per consentire le cure del caso al numero 9 del Casarano Saraniti che era rimasto a terra nel contrasto precedente con Aldo Bezzon che adesso si avvicina a Mr. Troisa per avere alcuni ragguagli tecnico-tattici. lo stesso Bezzon va a sincerarsi delle condizioni di Saraniti. È stato toccato all'altezza del ginocchio il numero 9 della formazione rosso-blu. Nella gara di campionato al Simonetta Lamberti tra Cavese e Casarano è finita 2-1 per gli Aquilotti che si erano portati in vantaggio nel primo tempo con Foggia su calcio di rigore. Lo stesso Ciro Foggia aveva raddoppiato al terzo della ripresa a 8 minuti dal termine. Marsili per il Casarano aveva accorciato le distanze per il definitivo 2-1. Adesso il Casarano restituisce la sfera alla Cavese con Citro che tocca per Colombo. dal portiere della Cavese ad Altobello, Fissora. In verticale per Gagliardi, il colpo di testa per Foggia, ancora Gagliardi. Se c'entra il giocatore della Cavese poi è Cuomo che viene anticipato da Guastamacchia. Strambelli, pallone per Marsili, Banegas riconquista per i bianco-blu. Cuomo anticipato da Marsili che viene messo a terra dallo stesso 17 della Cavese che oggi non sembra in gran giornata, commette fallo ai danni di Marsili. Calcio di punizione già battuto dal Casarano con Marsili che tocca per Strambelli. Guastamacchia per Cipolletta, ancora un tocco impreciso. Pallone per Fissore, il colpo di testa per Banegas anticipato dallo stesso Cipolletta. Poi è Cuomo per Gagliardi. Arriva Maffei, preferisce toccare centralmente per Bezzon anticipato. Fissore, ancora Gagliardi che riesce ad andare via a Cecere. Il suo tentativo di passaggio per Mugnoz viene intercettato da Strambelli che viene colpito al volto. Palla in fallo laterale. Medico e massaggiatore del Casarano in campo per la pallonata ricevuta in pieno viso da parte di Strambelli. Quando siamo alla mezz'ora esatta del primo tempo, 0-0 il risultato tra Cavese e Casarano. Ricordiamo che in caso di parità al termine dei 90 minuti saranno disputati due tempi supplementari da 15 minuti. In caso di ulteriore parità sarà la formazione meglio classificatasi in campionato a passare il turno. Quindi in questo caso la Cavese che ha concluso a pari merito con il Brindisi in prima posizione. Domenica scorsa ha perso lo spareggio con la formazione pugliese. Ragion per cui adesso si gioca la semifinale dei playoff con la speranza nel caso in cui riuscisse a vincere anche la finale di sperare in un eventuale ripescaggio. La Cavese che nella graduatoria stilata per i ripescaggi al momento sarebbe seconda alle spalle solo dell'Alcione Milano che ha disputato il girone B della Serie D anche se i criteri per i ripescaggi ancora non sono stati diramati dalla Lega. Quindi si è ancora in attesa. Delle comunicazioni, dei comunicati proprio della Lega che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Alto Bello Pallone per Banegas Si accentra il 10 della Cavese Mugnoz Due su di lui, perde il pallone Mugnoz Attenzione al contropiede Saraniti Lo stesso Mugnoz torna su di lui Pallone per Tipaldi va al contrasto Mugnoz E poi c'è la spinta di Banegas Ai danni dello stesso Tipaldi Calcio di punizione accordato dal signor Gavini di Aprilia A beneficio del Casarano Sul punto di battuto Marsili Cipolletta Ancora Marsili Guastamacchia Ma in pressing Banegas Pallone per Vito Francesco Ancora Guastamacchia Marsili Tipaldi Attenzione a Bocchetti che è partito Non lo molla Rossi Viene servito proprio Bocchetti La palla che viene intercettata da Mugnoz E poi Rossi che mette in fallo laterale Sembra zoppicare Mugnoz Pallone per Bocchetti Marsili Cipolletta Bocchetti Lo scambio con Cecere Ancora Bocchetti Tipaldi il cross in area di rigore Viene messo fuori da Cuomo Poi è Vito Francesco Che tocca per Strambelli Se ne va sulla destra il suo cross Verso Bocchetti E' troppo lungo E termina direttamente a fondo campo C'è Mugnoz che zoppica vistosamente Va giù Problemi fisici per il calciatore della Cavese Che probabilmente sarà costretto a lasciare il campo Vediamo se riuscirà a rimanere in campo Rafa Mugnoz Anche se Si è improvvisamente accasciato al suolo Il movimento del calciatore Che non lascia presagire nulla di buono Vediamo che sta zoppicando il calciatore della Cavese E infatti non ce la fa C'è bisogno della sostituzione per Mugnoz Che quindi deve lasciare anzitempo il campo Non cambierà nulla dal punto di vista tattico Con Puglisi che si andrà a posizionare sul centrodestra Del reparto di centrocampo Accanto a Bezzon e a Cuomo Attenzione al pallone per Saraniti Va in teckel fissore Poi è Bezzon che tocca all'indietro per Colombo Che rinvia lungo in avanti Cavese con l'ingresso di Puglisi Ha attualmente sei under in campo Sono stati quest'anno la forza della formazione bianco-blu Attenzione adesso a Strambelli Il cross basso Pallone in area di rigore Poi è Rossi che riesce davanti proprio a Colombo A rinviare in fallo laterale Pericoloso il Casarano Pallone riconquistato adesso da Gagliardi Tocca per Bezzon Sulla destra per Banegas Lo stop da parte del numero 10 della Cavese Che entra nella metà campo del Casarano Si accentra Banegas Pallone per Cuomo E in sovrapposizione Gagliardi Viene servito in questo momento il cross Con Cipolletta che mette in calcio d'angolo Si è distesa in contropiede la Cavese Con questo cross da parte di Gagliardi L'intervento decisivo di Cipolletta Ad anticipare Foggia E palla in calcio d'angolo Per il terzo tiro dalla bandierina A favore della formazione bianco-blu Zero ne ha battuti il Casarano Gagliardi e Bezzon Va Gagliardi con il destro a rientrare Pallone che viene messo fuori da Saraniti Poi è Banegas a limite dell'area Riconquista il pallone La sfera per Bezzon Il cross tagliato Il colpo di testa da parte di Altobello E palla fuori Ottima l'occasione per la Cavese Con questo cross Da parte di Bezzon per Altobello C'è stata anche una deviazione Palla ancora in calcio d'angolo Cavese vicina al gol del vantaggio Con Altobello Che da pochi passi ha colpito di testa C'è stata deviazione provvidenziale Da parte di un difensore del Casarano E palla in calcio d'angolo Al trentottesimo minuto Ancora Bezzon e Gagliardi Va Bezzon questa volta Il pallone in area di rigore Il colpo di testa da parte di Puglisi E la palla che termina direttamente a fondo campo Ci ha provato Puglisi Il cross sul primo palo da parte di Bezzon Dove era appostato proprio Samuele Puglisi Che con una torsione ha provato Ad inquadrare lo specchio della porta Non vi è riuscito Adesso il Casarano che sbaglia con Bocchetti Riconquista il pallone la Cavese Banegas fogge il colpo di tacco per Cuomo Anticipato da Cipolletta Ma ancora la Cavese con Banegas Entra in area Il pallone per Cuomo Ancora Banegas Anticipato da Guastamacchia Che adesso esce palla al piede Anzi si trattava di Cipolletta Che viene messo a terra da Cuomo E calcio di punizione per il Casarano 5 e mezzo più recupero al termine del primo tempo Sempre 0 a 0 tra Cavese e Casarano Saraniti per Bocchetti Tipaldi Il cross in area di rigore La mette fuori Fissore Sfera che arriva Affoggia lo stop del 9 della Cavese Fra due avversari Protegge il pallone Va a terra Non c'è fallo Va via Strambelli Il pallone per Saraniti Limite dell'area Bravissimo Fissore ad anticiparlo Ma ancora Strambelli Entra in area Il pallone per Bocchetti Il cross C'è Vito Francesco Lo stop Pallone per Citro Ancora Vito Francesco Prova a tirare C'è Fissore Che riesce a Deviare la sfera E poi Gagliardi Che viene fermato fallosamente Da Marsili Riparte velocemente La Cavese Il pallone per Puglisi C'è libero sulla destra Banegas Che viene servito in questo momento Va velocissimo Rossi Banegas Sta per entrare in area di rigore Si accentra Parte Banegas Il cross Maffei Anticipato dall'intervento Di Guastamacchia Poi è Cuomo Ancora per Maffei A spazio Il numero 3 Della Cavese Effettua il cross Basso nella zona di Cecere Che mette fuori Ma ancora la Cavese Con Cuomo Si accentra Cuomo Il cross Direttamente a fondo campo Ancora una volta Imprecisa La Cavese Con Cuomo Che Aveva Il tempo Per Poter osservare Meglio Il piazzamento Dei compagni È stato troppo Frettoloso E ha mandato la palla Direttamente a fondo campo Tutto questo Al 41esimo Del primo tempo Sempre 0-0 Tra Cavese Casarano Cipolletta In avanti Per Saraniti Il colpo di testa Del numero 9 Del Casarano Poi Altobello Ad anticipare Citro Tipaldi Banegas Mette in fallo laterale Tipaldi Per Saraniti Il colpo di testa Per Cecere Anticipato da Puglisi Poi è Marsili Va via fra due avversari Il tecle da parte di Puglisi Pallone Conquistato Dalla Cavese Con Banegas Per Gagliardi Entra in area Gagliardi Si prepara al tiro Ancora Gagliardi La sua conclusione Viene rimpallata Davito Francesco Ancora Gagliardi Pallone per Puglisi Poi è Foggia Il tiro di Foggia E palla fuori Ha sprecato Un'ottima occasione La Cavese Prima con Gagliardi E poi con Ciro Foggia Ha avuto la possibilità Di passare in vantaggio La Cavese Non c'è riuscita Tutto questo Al quarantaduesimo minuto Ha provato Con il piatto destro Ciro Foggia A mettere la palla Nell'angolino Alla destra Di Carotenuto La palla è terminata Di Un metro e mezzo Circa Alla destra Di Carotenuto Che adesso Effettua la ripresa Del gioco Con il rinvio Da fondo campo Altobello Anticipato da Citro Cecere Nel corridoio Rossi Ad anticipare Però Gli avversari Pallone in avanti Però Dove non ci sono Maglie bianche Carotenuto Interviene con le mani E tocca per Cipolletta Pallone per Citro L'anticipo di Bezzon Arriva lo stesso Cipolletta Che tocca per Tipaldi Bezzon Anticipa Bocchetti Altobello Fissore Maffei Pallone per Cuomo Che si è lanciato Nello spazio È andato via Guastamacchia Che l'ha messo a terra Ci sono gli estremi Per cartellino giallo Ed è così Il secondo giocatore A terminare Sul taccuino Del signor Gavini Di Aprilia È Guastamacchia Al quarantatresimo minuto Per questo fallo Commesso ai danni Di Cuomo Calcio di punizione Per la Cavesia Un minuto e mezzo Dal termine Dei primi 45 minuti Gagliardi Bezzon E Maffei Con quest'ultimo Che si allontana Probabilmente Batterà Gagliardi Con l'interno Del piede destro A rientrare Verso L'area di rigore Avversaria Pallone di Gagliardi In aria Per l'intervento E il gol Della Cavese Da parte di Puglisi Cavese in vantaggio Al quarantacinquesimo minuto La formazione Metelliana È passata in vantaggio Con Puglisi Meritato il vantaggio Per la formazione Aquilotta Il secondo gol In stagione Per Samuele Puglisi Che ha portato In vantaggio La Cavese Allo scadere Del primo tempo Quindi registriamo Il vantaggio Della Cavese Proprio in conclusione Della prima frazione Di gioco Puglisi Sugli sviluppi Di questo calcio Di punizione Battuto dalla sinistra Da Gagliardi Che ha Tagliato tutto il campo Mentre saranno Quattro i minuti Di recupero Nel primo tempo Dicevamo La punizione Di Gagliardi Dalla sinistra Che ha tagliato Tutta la difesa Del Caserano Era ben appostato Sul secondo palo Puglisi Che Con un tapin Vincente Riuscito a mettere La palla Alle spalle Di Carotenuto Per il vantaggio Della Cavese Maffei di testa Anticipa Citro Pallone per Cipolletta C'è il pressing Dello stesso Puglisi Riconquista il pallone La Cavese Con Banegas Che va via Marsili Poi è Puglisi Pallone per Rossi Il cross in area Di rigore Per Cuomo Non riesce per un soffio Ad impattare Di testa La pala termina A fondo campo Ancora una buona Manovra Della Cavese Con questo cross Da parte di Rossi Per Cuomo Che è andato in elevazione Non è riuscito Però ad impattare Con la sfera Carotenuto per Cipolletta Tipaldi Bezzon anticipa Saraniti Arriva Banegas C'è un contrasto C'è un contrasto duro Tra Banegas E Saraniti Rimangono a terra Entrambi i calciatori Un duro contrasto Seppur involontario Mentre Si è alzata Tutta la panchina Della Cavese Non ci è sembrata Per la verità Cattiveria Nessuno dei due Calciatori Che sono andati In contrasto duro Mentre c'è anche Montervino Che si alza Dalla panchina Chiede calma È stato un contrasto A nostro giudizio Del tutto fortuito Tra due calciatori Che sono andati decisi Sul pallone Mentre Saraniti A terra Sembra Aver Avuto La peggio Non vediamo Banegas Però È rimasto a terra Saraniti Arrivano Proprio adesso Medico E massaggiatore Del Casarano Mentre sono tutti Tutti i calciatori A ridosso Della panchina Della cavese Si è C'è un Nugolo Di uomini Con Marsili Che adesso Sembra avere qualcosa Da dire Ai calciatori Della cavese Ancora una volta Montervino Che va a discutere Con Controise Dirigenti Che farebbero bene A riportare la calma Anziché aizzare Gli animi Infatti Montervino Adesso Sembra Andare a recuperare I calciatori Della propria Panchina Per Farli Risedere In panchina Mentre c'è Un Tesserato Del Casarano Sembra Particolarmente Esagitato Viene Infatti Invitato Da Montervino A risedersi In panchina Adesso Marsili Va a discutere Con Troise Tanto Adesso Fissore Va ad Abbracciare Strambelli Un po' Per Stemperare Gli animi Il direttore Di gara Sembra Aver Sventolato Un cartellino Giallo A qualche Componente Della panchina Della Cavese Adesso Va All'altezza Della Panchina Del Casarano Fiocca Qualche Cartellino Giallo Questo Sembra Indirizzato A Troise Travediamo Nuovamente Banegas Che è In piedi Tutto Questo Quando Il nostro Cronometro Segna Il Quarantanovesimo Quindi Siamo Abbiamo Superato I quattro Minuti Di recupero Ma ci sarà Sicuramente Un supplemento In quanto Da almeno Tre minuti Non si sta Giocando Per il Contrasto Tra Banegas E Saraniti Dopo il quale C'è stato Praticamente Un Battibecco Tra le due Panchine La situazione Sembra essere Riportata Alla calma Il Signor Gavini Di Aprile Ha Sventolato Qualche Cartellino Giallo Ai Danni Di Qualche Componente Della Panchina Sia Della Cavese Sia Del Casarano Intanto Il gioco Può Riprendere Con La rimessa Da parte Di Tipaldi Mentre Saraniti E Banegas Sono Ancora A bordo Campo Citro Un Retropassaggio Per Caro Tenuto Che Va Di Testa Ad Anticipare Gagliardi Poi Cuomo Che Ha la meglio Succesere Pallone Per Gagliardi Protegge Il pallone Tocca Per Bezzon All'indietro Per Alto Bello Intanto Sono Rientrati Sia Saraniti Sia Banegas Viene Servito Il numero 10 Della Cavese La palla È Troppo Lunga Termina Direttamente In Fallo Laterale 51esimo Del primo Tempo Si gioca Ancora Al Simoletta Lamberti Cavese 1 Casarano 0 Il gol Realizzato Da Samuele Puglisi Al 45esimo Minuto Saraniti Poi È Bezzon Puglisi C'è Un falo Da parte Di Marsili Che Sembra Particolarmente Nervoso Uno Dei Più Nervosi Del Casarano Come Il calcio Di punizione A favore Della Cavese Tutto Questo Al 52esimo Minuto Il Direttore Di Gara Aveva Accordato Inizialmente 4 Minuti Quindi Si sarebbe Dovuto Giocare Fino Al 49esimo Poi Il Gioco Si è Fermato Per Altri 3 Minuti Dopo Il Contrasto Tra Banegas E Saraniti Calcio Di Punizione Gagliardi E Bezzon Parte Ancora Gagliardi Pallone In area Di Rigore C'è Fissore Sul Secondo Pallo L'anticipo Da parte Di Caro Tenuto Che Voleva Far Ripartire Velocemente I suoi Non C'è Riuscito La palla Per Strambelli E Proprio In questo Istante Il Direttore Di Gara Sancisce La Fine Delle Ostilità Per Quanto Riguarda Il Primo Tempo La Cavese In vantaggio Per Una Rete A Zero Decide Fino a Questo Mento Il Gol Di Puglisi Al Quarantacinquesimo Un Vantaggio Meritato Per la Formazione Di Troise Per Quello Che Abbiamo Visto In Campo Nei Primi 45 Minuti Ci Fermiamo Per Il Momento Diamo La Linea Alla Regia A Risentirci Per I Secondi 45 Minuti Gli Po Gli A To squadre che sono rientrate sul rettangolo di gioco per i secondi 45 minuti c'è subito una sostituzione nel Casarano con Cannavaro che ha preso il posto di Tipaldi gara che ha inizio in questo momento per i secondi 45 minuti lancio di Bezzon Foggia Banegas Bezzon, Rossi colpo di testa di Cipolletta e palla in fallo laterale pallone per Banegas, poi è Foggia che viene anticipato l'ultimo tocco è proprio del numero 9 della Cavese, la rimessa per il Casarano Bocchetti Saraniti, poi è Cuomo che prova a girare verso Gagliatti, c'è l'anticipo di Vito Francesco che tocca all'indietro per Caro Tenuto Guastamacchia pallone per Marsili Cannavaro, centralmente per Citro che non riesce nello stop Banegas servito da Rossi, fermato però Banegas c'è il fallo ai suoi danni commesso dallo stesso Citro, calcio di punizione per la Cavese nel Casarano con la sostituzione di Tipaldi per visto in campo l'ingresso di Cannavaro è stato Bocchetti ad arretrare sulla linea dei quattro difensori mentre Cannavaro adesso è sulla linea dei tre subito alle spalle di Saraniti intanto c'è stata una conclusione dalla distanza della Cavese con palla che è terminata a fondo campo Vito Francesco pallone per Guastamacchia il lancio in avanti per Saraniti fissore per Cuomo pallone per Gagliardi anticipato da Guastamacchia arriva Cuomo, ancora Guastamacchia rimessa laterale per il Casarano Saraniti sbaglia il disimpegno riconquista la Cavese con Puglisi bad zone alto bello si allunga il pallone il giocatore della Cavese riesce però a mantenere il possesso serve sulla destra Rossi il cross in area di rigore palla però che termina direttamente a fondo campo tutto questo al terzo minuto del secondo tempo Cavese 1 Casarano 0 Guastamacchia Vito Francesco Cannavaro c'è Cuomo su di lui riesce per un attimo a fermarlo arriva anche Puglisi pallone per Citro Bezzon su di lui Strambelli Citro pallone per Cannavaro c'è l'anticipo di Bezzon che viene ammonito è andato sul pallone Bezzon è poi con la gamba di richiamo ha colpito Cannavaro che è rimasto a terra viene ammonito quindi dal direttore di gara Bezzon al quarto minuto della ripresa per il fallo commesso ai danni di Cannavaro Ancora a terra Cannavaro viene soccorso proprio all'altezza della panchina della Cavese mentre nell'occasione in cui c'è stato il parapiglia dopo il contrasto tra Banegas e Saraniti dovrebbero essere stati ammoniti proprio Saraniti e poi Fissore quindi altri due calciatori a essere terminati sul taccuino del direttore di gara calci punizione adesso per il Casarano con Strambelli e Marsili sul punto di battuta si allontana leggermente Marsili parte Strambelli il cross in area di rigore attenzione a Guastamacchia che non riesce ad arrivare sul pallone anzi si trattava di Cipolletta sul secondo palo non è riuscito a deviare all'inizio della porta difesa da Colombo a sfera che è terminata direttamente a fondo campo Altobello Puglisi indietro per Rossi in verticale per Banegas impreciso però il passaggio riconquista Guastamacchia all'indietro per Carotenuto il rinvio lungo c'è Maffei in anticipo su Strambelli pallone per Cuomo anticipato da Guastamacchia Marsili Bocchetti avanza il numero 3 del Casarano c'è Puglisi su di lui non lo molla arriva anche Rossi ad anticipare Cecere palla in fallo laterale per il Casarano Cipolletta Guastamacchia Marsili ancora Cipolletta Marsili pallone in verticale per Saraniti l'anticipo di Altobello la sfera arriva a Foggia ma c'è stato un intervento duro da parte di Guastamacchia non interviene però il direttore di gara Strambelli all'altezza del cerchio di centrocampo pallone poi per Citro al limite dell'area di rigore prova a servire Cannavaro che viene anticipato dalla retroguardia della Cavesi ancora il Casarano che insiste con Bocchetti Marsili Guastamacchia ancora Marsili Sbaglia Guastamacchia se ne va Gagliardi riesce a superarlo arriva in seconda battuta Cipolletta e mette la palla in fallo laterale chiuso bene tutte le linee di passaggio la formazione di Troise ha costretto all'errore la compagine rosso-blu Maffei pallone per Gagliardi pallone rischioso per Rossi sulla destra in anticipo su Citro poi è Puglisi che prova a servire Banegas l'anticipo di Bocchetti che tocca per Marsili lascia scorrere Strambelli per Cannavaro pallone per Saraniti in posizione di offside si è alzata bene la retroguardia della Cavese per mettere in posizione di fuorigioco Saraniti gioco che riprenderà con un calcio piazzato a favore della compagine bianco-blu Altobello per Fissore Bezzon Foggia Banegas pallone per Rossi prova a servire Puglisi c'è l'anticipo di Cipolletta palla che arriva verso Citro che non riesce ad evitare il fallo laterale a favore della Cavese tutto questo all'ottavo minuto della ripresa Cavese 1 Casarano 0 Rossi con le mani Banegas riesce ad andare via Cannavaro poi lo scambio con Puglisi Banegas si accentra alla conclusione Guastamacchia e poi c'è la posizione di offside da parte di Foggia il tiro di Banegas è stato deviato da Guastamacchia poi la sfera è arrivata a Foggia che però era in posizione di fuorigioco l'invio lungo di Carotenuto per Saraniti il colpo di testa per Strambelli in anticipo Maffei pallone per Puglisi nel cerchio di centrocampo buono il passaggio per Gagliardi anticipato però dall'intervento di Vito Francesco poi è Marsili Citro arriva Banegas in ripiegamento sfera che però giunge a Saraniti se ne va sulla sinistra il numero 9 del Casarano viene rincorso da Puglisi arriva anche Rossi che riesce a fermarlo e a guadagnare la rimessa laterale tra i migliori quest'oggi Rossi molto motivato sta giocando davvero una buona partita è lo stesso Rossi che si prepara a effettuare la ripresa con le mani Foggia anticipato da Cipolletta Strambelli si accentra il numero 10 del Casarano scambia con Citro il cross verso Vito Francesco la palla termina direttamente a fondo campo non è riuscito a tenerla però c'era stata una deviazione precedente probabilmente quindi ci sarà un calcio d'angolo a favore del Casarano tutto questo al decimo minuto della ripresa sempre 1 a 0 il risultato a favore della Cavese primo tiro dalla banderina della partita per la formazione di Foglia Manzillo si allontana Strambelli sarà Citro effettuare la battuta lo fa toccando corto proprio per Strambelli Marsil il cross in area di rigore l'uscita di pugni da parte di Colombo che viene anche caricato fallosamente probabilmente ma non è intervenuto il direttore di gara quindi ci sarà rimessa in zona d'attacco per il Casarano con Bocchetti si avvicina a Cecere per ricevere il pallone va direttamente in area lunghissima la rimessa di Bocchetti colpo di testa di Fissore palla che arriva a Strambelli la conclusione palla fuori aveva provato a deviare Cipolletta che però era in posizione di fuorigioco sulla conclusione sporca dal limite dell'area di Strambelli si era lanciato in Teckel Cipolletta che però era anche terminato in posizione di fuorigioco la sfera è terminata a fondo campo intanto la ripresa del gioco con il calcio di punizione da Colombo a Fissore poi è Maffei Gagliardi cambia gioco servendo sulla destra Rossi lo stop del numero 2 della Cavese Banegas c'è Cecere su di lui prova a scambiare con Puglisi non si perfeziona il triangolo troppo arretrato il pallone di ritorno di Puglisi per Banegas manovra il Casarano Strambelli Saraniti Marsili va in sovrapposizione Vito Francesco sulla destra viene servito in questo momento lo stop del 2 del Casarano che lancia Cannavaro Cavese che sembra scoperta sulla destra Cannavaro pallone per Citro la finta ci mette una pezza Cuomo e adesso è Banegas può ripartire la Cavese con Rossi si ferma Rossi tocca per Banegas sbaglia tutto Banegas poteva giocare all'inizio di un compagno che era nei suoi pressi ha preferito cambiare gioco ha finito per regalare la palla al Casarano Vito Francesco Strambelli ancora Vito Francesco Guastamacchia Casarano che perde il pallone con Marsili Banegas Foggia è un po' isolato il numero 9 della Cavese si ferma diligentemente poi sbaglia il passaggio per Puglisi Cavese imprecisa in questo scorcio di ripresa Casarano che si sta facendo preferire in questa fase ma ancora i rosso-blu che regalano palla alla Cavese Banegas pallone per Gagliardi si accentra il numero 7 della Cavese Vacuomo in sovrapposizione Gagliardi per Foggia troppo lungo il pallone di Gagliardi per il compagno di reparto la sfera viene messa in fallo laterale dal Casarano probabilmente un po' di stanchezza anche se siamo appena al dodicesimo del secondo tempo rimessa per la Cavese con Maffei verso Foggia il ponte nel tentativo di far scorrere è andato giù Cipolletta non è intervenuto il direttore di gara Saraniti per Strambelli centralmente per Marsili allarga sulla sinistra per Bocchetti avanza il numero 3 del Casarano centralmente per Citro avanza Citro pallone per Cecere lo scambio tra i due apertura sulla sinistra per Bocchetti il cross da parte di Bocchetti arriva Puglisi scambia con Bezzono può ripartire la Cavese con Rossi va il numero 2 della Cavese tocco per Foggia troppo lungo c'è in anticipo Cipolletta che tocca per Caro Tenuto Vito Francesco Guastamacchia Strambelli Cipolletta pallone largo per Bocchetti avanza il giocatore del Casarano si accentra tocca per Marsili Strambelli lo scambio corto con Cannavaro arriva Banegas si è in possessa della sfera poi viene messo giù da Marsili calcio di punizione per la Cavese un calcio piazzato che fa rifiatare la formazione bianco-blu Casarano che come diciamo si sta facendo preferire ovviamente essendo sotto di una rete deve provare a riequilibrarla quantomeno al momento non ci sta riuscendo in quanto la formazione meteliana si sta disimpegnando in maniera egregia pallone per Guastamacchia il suo pallone viene deviato da Gagliardi che poi conquista una rimessa laterale era riuscito ad intercettare il lancio di Guastamacchia Gagliardi adesso è Maffei che si prepara per la rimessa con le mani c'è Foggia che viene servito c'è Guastamacchia che lo anticipa arriva la palla a Cuomo limite dell'area prova la conclusione che viene ribattuta Bocchetti il suo lancio contrato poi è Foggia che tocca l'indietro per Maffei cambia gioco sulla destra per Banegas lo stop da parte del Pocio che si accentra prova a servire Cuomo anticipato la palla viene riconquistata da Rossi centralmente per Bezzon buono il corridoio per Maffei si prepara al cross lo effetto in questo momento è palla che viene messa in fallo laterale da Guastamacchia aveva visto l'inserimento di Maffei sulla sinistra Bezzon l'ha servito il cross da parte del intanto vediamo che c'è il guardaline che richiama l'attenzione dell'arbitro non sappiamo cosa abbia segnalato dovrebbe probabilmente chiamare a sé qualche calciatore per qualche sanzione vediamo che sta ancora discutendo vediamo che chiama Foggia e Cipolletta sta discutendo con i due calciatori probabilmente in area di rigore si sono scambiati qualche colpo proibito Foggia si allontana non prende provvedimenti ha solo redarguito verbalmente il direttore di gara gioco che riprende con la rimessa di Maffei per Foggia prova a cambiare verso Banegas lo stop del numero 10 della Cavese c'è Cecere di fronte a lui si accentra Banegas la conclusione che viene ribattuta da Marsili ancora Banegas il tiro alto sulla traversa potente la conclusione di Banegas non preciso con la palla che ha sorvolato di poco la trasversale della porta di Carotenuto tutto questo al diciottesimo del secondo tempo ci ha provato il pocio Banegas con una conclusione una rasoiata con la palla che è terminata direttamente a fondo campo la ripresa del gioco con Carotenuto il rinvio lungo con i piedi Saranitti lo stop all'altezza della tre quarti viene servito sulla sinistra Citro Strambelli ancora Citro pallone per Cecere l'anticipo da parte di Bezzon che riesce a guadagnare una rimessa laterale ancora una rimessa guadagnata dalla Cavese all'altezza della linea mediana Banegas Cuomo reclama palla Gagliardi che viene servito lato corto di sinistra va Gagliardi ingaggia il duello con Vito Francesco pallone per Marfei la conclusione ribattuta da Guastamacchia poi è Marsili Puglisi la conclusione palla che sfiora il palo alla sinistra di Vito Francesco la conclusione radente da parte di Puglisi ma c'è stata anche una deviazione sul tiro da parte del centrocampista della Cavese che al momento sta decidendo questa gara con il gol realizzato al 45esimo del primo tempo Puglisi che è andato vicino al raddoppio alla doppietta personale con questo tiro da fuori aria la palla è stata deviata in calcio d'angolo da un difensore del Casarano va a Bezzon per il quinto tiro dalla bandierina a favore della Cavese uno invece ne ha battuto il Casarano il cross di Bezzon la palla che viene toccata da Bocchetti che anticipa fissore l'ultimo tocco è stato proprio del difensore della Cavese che si era proiettato in avanti sul calcio d'angolo di Bezzon ultimo tocco suo quindi gioco che ripreso da fondocampo con Marsili il pressing su di lui da parte di Cuomo si conquista la Cavese ma c'è stato un fallo da parte di Banega assai danni di Bocchetti al ventesimo della ripresa Cavese uno Casarano zero Marsili Guastamacchia Strambelli Marsili ancora Strambelli Guastamacchia Cipolletta Bocchetti Marsili Citro Bezzon su di lui non lo molla confronto tra i 2 18 all'indietro per Strambelli si accentra il 10 del Casarano apre sulla destra per Vito Francesco di prima per Cannavaro impreciso però Vito Francesco la palla termina direttamente in fallo laterale sta provando con passaggi corti il Casarano a venire in avanti però sta peccando nell'ultimo passaggio come in questa circostanza rimessa laterale a favore della Cavese Maffei anticipato Gagliardi Saraniti fermato in fallo laterale da Maffei con le mani Vito Francesco per Strambelli va via fra due avversari poi Bezzon che lotta Cannavaro per Strambelli il cross verso la porta della Cavese che termina direttamente a fondo campo approvato con il piede debole Strambelli ovvero il destro e la palla è terminata direttamente a fondo campo Colombo per Altobello Rossi pallone in verticale per Banegas c'è Marsili che lascia scorrere Bocchetti all'indietro per Guastamacchia ma in pressing Foggia è costretto a toccare all'indietro per Carotenuto lancio sulla sinistra per Citro completamente sballato il lancio da parte di Carotenuto mentre si prepara una sostituzione nelle fila della Cavese con Bacio Terascino che dovrebbe rilevare probabilmente Gagliardi e così esattamente al ventitresimo della ripresa esce è Gagliardi al suo posto Bacio Terascino un Gagliardi che ha speso molto preferisce mandare in campo forze fresche Troise con l'ingresso di Bacio Terascino che andrà ad occupare la stessa posizione di Gagliardi quindi centro-sinistra del fronte d'attacco probabilmente darà manforte anche al reparto di centro-campo in fase di non possesso il 24 della Cavese mentre c'è una spinta da parte di Cipolletta ai danni di Foggia e calcio punizione per la Cavese tutto questo al ventiquattresimo minuto sempre 1-0 il risultato bezzon pallone per Maffei lancio per Bacio Terascino si accentra alla conclusione guastamacchia di testa riesce a mettere fuori poi è bezzon tocca per fissore palla al piede fissore lancia verso Foggia Bocchetti in anticipo su Banegas in verticale per Citro c'è Puglisi su di lui che lo ferma in fallo laterale guastamacchia Vito Francesco il pressing di Bacio Terascino pallone per Strambelli poi arriva Puglisi bezzon Banegas pallone per Bacio Terascino il tocco per Banegas può provare Banegas il cross per Foggia si coordina Foggia la conclusione palla alta è stato altruista in questa circostanza Banegas che aveva anche lo spazio per provare direttamente con il suo sinistro ha visto Foggia libero sul secondo palo l'ha servito con un traversone la conclusione al volo da parte di Foggia e palla che è terminata alta sulla traversa prova a ripartire il Casarano con Strambelli fra le linee serve Citro ottimo l'anticipo di Cuomo che esce palla al piede lo scambio con Banegas ancora Cuomo avanza Cuomo c'è sulla destra Foggia che viene servito lo fronteggia Cipolletta entra in area Foggia il tecla da parte di Cipolletta che mette la palla in calcio d'angolo venticinquesimo della ripresa Cavesi 1 Casarano 0 va Bezzon con Bacio Terracino dopo l'uscita di Gagliardi cambia il partner di Bezzon per l'esecuzione dei tiri dalla bandierina sempre doppia soluzione per i calci d'angolo della Cavesi adesso è Bacio Terracino che chiama lo schema il cross in area di rigore a rientrare lo stop da parte di Foggia prova la conclusione che colpisce Fissore poi un rimpallo con la palla che termina a fondo campo aveva provato a rinviare Cannavaro ci ha messo il piede Foggia il rimpallo ha fatto terminare la palla direttamente a fondo campo pallone sulla sinistra per Bocchetti Marsili Cannavaro riesce a superare Cuomo pallone in verticale per Saraniti c'è l'uscita in anticipo da parte di Colombo sulla protezione di Fissore con le mani per Maffei Bezzon per Cuomo l'anticipo di Vito Francesco poi Cipolletta Cecere avanza il numero 17 del Casarano e Bezzon che non lo molla la palla termina direttamente in fallo laterale l'ultimo tocco è stato proprio del giocatore del Casarano mentre si prepara un doppio cambio nelle fila della compagine di Foglia Manzillo è pronto Navas con il numero 88 che rileva proprio Cecere la seconda sostituzione invece vedrà in campo Boersma che prende il posto di Vito Francesco sempre per il Casarano lascia numero 2 Vito Francesco il numero 28 Boersma quindi doppia sostituzione nel Casarano con Boersma e Navas che entrano in campo in luogo di Cecere e Vito Francesco fallo laterale per la Cavese Rossi con le mani all'indirizzo di Foggio anticipato da Cipolletta poi c'è il colpo di testa del neo entrato Navas batti e ribatti alto bello che anticipa Saraniti poi è Banegas che prova a cambiare servendo sulla sinistra bacio Terracino va velocissimo il colpo di testa del neo entrato Boersma che mette la palla in fallo laterale c'è una nuova sostituzione anche nella Cavese con Bubas che rileva Ciro Foggia esattamente al 29esimo della ripresa nuova sostituzione per la Cavese con Bubas che prende il posto di Ciro Foggia non cambia nulla dal punto di vista tattico con Bubas che va a prendere il posto al centro dell'attacco proprio di Ciro Foggia che ha speso tantissimo molti duelli con Cipolletta e Guastamacchia forse fresche per Troise adesso è Bubas subito il colpo di testa per Puglisi alla meglio Bocchetti non lo molla però Puglisi che mette la palla stava per metterla direttamente a fondo campo un rimpallo stava favorendo Bubas l'intervento di Carotenuto che tocca subito per Guastamacchia impreciso il pallone per Saraniti e Rossi che tocca per Altobello Fissore è partito Bacio Terracino l'ha visto Fissore pallone per lui c'è l'anticipo di Boersma però la palla rimane lì Bacio Terracino per Banegas Banegas riesce a superare Boersma il cross in area per Bubas anticipato dall'intervento di Guastamacchia poi è Navas in anticipo su Puglisi che lo mette giù calcio di punizione per il Casarano e c'è anche l'ammunizione per Puglisi per questo intervento in Teckel ai danni del neo entrato numero 88 del Casarano pallone in avanti per Navas c'è Rossi in anticipo che lascia scorrere la sfera che termina direttamente a fondo campo mentre si prepara anche Bursio nelle fila del Casarano vediamo di chi prenderà il posto esce Marsili calciatore che viene sostituito da Bursio quindi un attaccante per un centrocampista Marsili per lui anche una presenza in Serie A nelle fila della Roma nel campionato 2004-2005 quindi un attaccante mandato in campo da Foglia Manzillo ovviamente nel tentativo di riequilibrare la gara che vede al momento in vantaggio la Cavese Bezzon pallone in avanti per Bubas due giocatori su di lui riesce a mantenere il possesso Bubas serve Bezzon poi Puglisi Rossi sbaglia il passaggio Bubas per Bezzon può ripartire il Casarano Strambelli c'è Maffei che lo anticipa c'è fallo però secondo il direttore di gara rimane a terra Strambelli sull'anticipo falloso di Maffei e calcio di punizione per il Casarano tutto questo al 32esimo della ripresa sempre Cavese 1 Casarano 0 il gol realizzato al 45esimo da Puglisi tanto Strambelli che ha comunicato alla panchina di attendere probabilmente era previsto un cambio che avrebbe interessato proprio il 10 del Casarano che sembra intenzionato a battere direttamente in porta questo calcio di punizione si avvicina anche Cannavas si allontana però Strambelli c'è Cannavaro con Navas sul punto di battuta toccherà Navas per Cannavaro prova dalla distanza Cannavaro il suo tiro viene contrato dalla barriera ancora Navas largo per Citro ancora Navas c'è Banegas su di lui prova a superarlo il cross in area c'è Bubas che insieme a Banegas riesce a mettere la palla fuori dalla propria area di rigore poi è Boersma che tocca per Guastamacchia c'è il pressing di Bacio Teracino che costringe Guastamacchia a mettere in fallo laterale guadagna secondo i preziosi la cavese che può rifiatare quando mancano 12 minuti più recupero al termine della partita sta venendo al momento la formazione bianco-blu in vantaggio per una rete a zero con le mani la palla verso Bacio Teracino che è più veloce di Boersma alla meglio il 24 della Cavese limite dell'area tocca per Cuomo ancora Bacio Teracino in area per Cuomo la conclusione di Bubas e il gol della Cavese il raddoppio da parte di Sergio Bubas al 34esimo della ripresa ottima l'azione in attacco della Cavese con Bacio Teracino e Cuomo la sfera poi è arrivata a Bubas che ha visto l'angolino alla destra di Carotenuto e con un piatto con il piede destro è riuscito a battere Carotenuto per la seconda volta quindi il raddoppio della Cavese al 34esimo del secondo tempo con Bubas Cavese che mette al sicuro il risultato mentre c'è una nuova sostituzione nel Casarano con Gaeta l'ex di turno che sta per prendere il posto di Strambelli attenzione sostituzione per il Casarano esce il numero 10 Strambelli entra il numero 15 Gaeta Strambelli bilancia ora oggi non bilanci riprende il gioco Bursio per Nava Gaeta Guastamacchia Bocchetti riconquista la Cavese intanto c'è Bezzon che è rimasto a terra viene messa la palla in fallo laterale è andato giù probabilmente da solo Aldo Bezzon speriamo non si tratti di un problema serio per il centrocampista della Cavese si rialza Casarano che adesso restituisce palla sportivamente alla Cavese e Colombo con le mani serve Maffei pallone in verticale per Bubas palla che termina direttamente in fallo laterale Boesma per Guastamacchia Citro all'indietro per Boesma il colpo di testa per ancora Guastamacchia tanto c'è un cartellino rosso da parte del direttore di gara per un componente della panchina viene allontanato probabilmente per aver rivolto qualche frase riguardosa proprio all'indirizzo del direttore di gara mancano intanto 8 minuti più recupero mentre si prepara anche Palma nella Cavese che potrebbe prendere probabilmente proprio il posto di Bezzon che non sembra essere al meglio infatti esce proprio Aldo Bezzon attenzione sostituzione per la Cavese esce il numero 18 Bezzon entra il numero 8 tra i migliori in campo quest'oggi Aldo Bezzon che ha dato geometrie al centrocampo della Cavese qualità e quantità da parte del giovane centrocampista della formazione bianco-blu che viene sostituito adesso da Palma Boesma il pressing di bacio Terracino Navas guastamacchia in verticale per Saraniti il colpo di testa per Bursio c'è fissore su di lui si ferma Bursio serve Citro che intanto ha cambiato posizione pallone ancora verso Bursio l'anticipo di Puglisi fissore due volte fissore poi è Maffei che mette in fallo laterale guastamacchia si avvicina il colpo di testa per Cannavaro poi è Boesma che se ne va sulla destra viene rincorso da Maffei bravissimo a evitare il cross da parte del numero 28 del Casarano e la palla arriva in calcio d'angolo per il secondo tiro dalla bandierina a favore della formazione di Foglia Manzillo al 39esimo della ripresa cross in area di rigore c'è il colpo di testa da parte di Cipolletta sull'angolo di Citro la palla che termina di poco alta sulla traversa ci ha provato il Casarano ad accorciare le distanze al 39esimo minuto con questo colpo di testa di Cipolletta con la palla che ha sorvolato di poco la trasversale della porta difesa da Colombo il rinvio da fondocampo da parte del portiere della Cavese che invita i compagni a portarsi in avanti opererà un lungo lancio con i piedi provando a servire Bubas anticipato da Navas poi è Puglisi che rimette all'indirizzo di Bascio Terracino fermato in fallo laterale mentre si prepara anche Tuminelli che sostituisce Banegas esattamente al 40esimo della ripresa esce Banegas al suo posto Tuminelli una buona prestazione anche da parte di Banegas quest'oggi va in campo per gli ultimi 5 minuti più recupero Tuminelli Bubas Palma va Tuminelli ottimo il pallone di Palma tagliare il campo verso l'interno per mettere fuori causa Bocchetti non è riuscito ad arrivare per pochi centimetri Tuminelli per la buona uscita da parte di Caro Tenuto Navas Cipolletta Bocchetti Cipolletta Guastamacchia pallone sulla sinistra per Gaeta l'anticipo di testa di Rossi arriva però Bursio si accentra il giocatore del Casarano serve Citro pallone ancora per Bursio c'è Maffei che mette in fallo laterale Boesma con le mani all'indirizzo di Guastamacchia Navas Bocchetti Bursio ancora per Navas Citro Bursio sbaglia il passaggio di ritorno per Citro può andare via la cavese con Tuminelli sulla destra viene messo a terra da Navas e calcio punizione con conseguente ammunizione anche per Navas al 42esimo della ripresa è andato via bene Tuminelli sulla destra e ha costretto al fallo Navas che è terminato anche sul taccuino dell'arbitro a tre minuti dalla fine cavese che in caso di successo questo pomeriggio andrà ad affrontare la vincente tra Nardò e Barletta per la finale dei playoff prova a ripartire il casarano con Citro serve sulla sinistra Bursio ancora verso Citro entra in area Citro il pallone per Gaeta anticipato ancora Bursio al limite due su di lui apre per Bursma arriva Baccio Terascino in anticipo sul diretto avversario poi è Maffei in avanti per Bubas che viene messo a terra da Bursma anzi da Guastamacchia calcio di punizione per la Cavese intanto c'è un calcio di punizione a favore del casarano proprio all'altezza della panchina della formazione rosso-blu due minuti più recupero al termine della partita Guastamacchia pallone lungo per Saraniti di petto per Bursio che allarga sulla sinistra per Gaeta all'indietro per Bocchetti Citro ancora Bocchetti pallone in area di rigore prova Saraniti che viene però anticipato da Altobello la conclusione pretenziosa da parte di Guastamacchia che manda direttamente la palla a fondo campo approvato da almeno 22-23 metri Guastamacchia una conclusione che non ha inquadrato la porta ancora Colombo per la ripresa del gioco rimetterà ancora lungo con i piedi in avanti pallone lungo c'è Bubas che viene sovrastato di testa da Cipolletta ma ancora la Cavese che riconquista il pallone con Rossi pallone in avanti per Bubas anticipato poi è Cipolletta che viene messo a terra da Tuminelli calcio di punizione a favore del Casalano Cannavaro pallone per Bocchetti il cross in area di rigore Altobello di testa mette fuori ancora Bocchetti tocca all'indietro per Navas fermato dal buon intervento di Palma può ripartire la Cavese con Bubas è isolato si accentra il giocatore della Cavese che viene fermato però da Navas che poi viene steso dallo stesso Bubas è calcio di punizione mentre Palma ha qualcosa da dire a Cannavaro tanto siamo proprio al novantesimo si dovrebbe alzare da qui a qualche secondo la lavagna con i minuti di recupero che saranno 5 quindi si giocherà fino al novantacinquesimo Guastamacchia per Boersma il break da parte della Cavese con Bacio Terascino che serve Cuomo ancora Bacio Terascino si ferma il numero 24 della Cavese poi cambia per Tuminelli lo stop da parte del giocatore della Cavese il tiro e il gol di Tuminelli è 3 a 0 bellissima questa azione della Cavese con Bacio Terascino che ha servito un gran pallone a Tuminelli lo stop e la conclusione da vero attaccante del giocatore della Cavese che ha operato un tiro raso terra nell'angolino basso alla destra di Caro Tenuto quindi chiude la partita Tuminelli al 46esimo della ripresa con questo diagonale è 3 a 0 a favore della Cavese Cavese che affronterà molto probabilmente il Nardoin finale che al momento è in vantaggio sulla Barletta per due reti a zero quindi fra sette giorni al Simonetta Lamberti la gara di finale proprio tra Cavese e Nardoin intanto è Colombo che anticipa con le mani Saraniti Polone lungo di Colombo per Tuminelli anticipato da Cipolletta palla in fallo laterale 2 minuti e mezzo al termine dei 5 di recupero ancora la Cavese con Maffei Basio Terracino ma in sovrapposizione Cuomo che riceve in questo momento pallone per Maffei va giù non c'è fallo secondo il direttore di gara Citro tocca per Navas Saraniti pallone per Navas all'indietro per Guastamacchia Boersma si conquista Cuomo Altobello ancora Cuomo Puglisi Maffei Rossi Pallone in area di rigore per Bubas il tiro cross con Bubas che ha sfiorato solo di testa con la palla che è terminata tra le braccia di Carotenuto Guastamacchia Guastamacchia il lancio per Saraniti che prova a mettere in movimento Bursio anticipato Fissore Cuomo può ripartire la Cavese Bubas Tuminelli ancora Bubas pallone per Baccio Terascino il pallone verso Cuomo anticipato da Guastamacchia di testa Puglisi per Baccio che è in posizione di fuorigioco lancio in avanti per Bursio c'è Fissore in anticipo che mette di testa in fallo laterale 40 secondi al termine dei 5 di recupero Cavese 3 Casarano 0 Boesma per Cannavaro Guastamacchia Cipolletta Navas Guastamacchia Citro l'anticipo di Puglisi poi è Bubas Bocchetti Navas consulta il cronometro e il direttore di gara e arriva proprio in questo istante il triplice fischio la Cavese batte il Casarano per 3 a 0 e approda alla finale dei playoff marcatori Puglisi al 45esimo del primo tempo sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dalla sinistra da Gagliardi punizione che ha tagliato tutta la difesa del Casarano e ha visto appostato sul secondo palo Puglisi che con un tap-in ha portato in vantaggio la Cavese quindi proprio allo scadere del primo tempo il raddoppio della Cavese al 34esimo della ripresa con il neo entrato Bubas che aveva sostituito Foggia in pieno recupero al 46esimo il diagonale vincente di Tuminelli per il definitivo 3 a 0 quindi Cavese che affronterà in finale il Nardò che al momento sta battendo il Barletta per 2 reti a 0 quindi appuntamento a fra 7 giorni sempre qui al Simonetta Lamberti per la finale dei play-off tra Cavese e Nardò da Geni Vitale è tutto qui dal Simonetta Lamberti linea alla regia grazie